buongiorno da Maria Luisa Barbaruno nello spazio social di Men's Life oggi ho il piacere di avere con noi Giacomo Bitelli buongiorno Giacomo buongiorno Maria Luisa buongiorno a tutti e buongiorno a tutti i nostri spettatori e i nostri follower allora oggi ho invitato Giacomo qui con noi su Men's Life perché è la prima persona nel mondo Men's Life che ha fatto il vaccino contro il coronavirus e quindi mi è sembrato una bellissima opportunità quello di fargli delle domande per sapere cosa ha provato che tipo di esperienza è stata e così via e quindi la prima domanda però che ti faccio visto che sei molto giovane è come mai hai già fatto il vaccino? Allora perché sono uno studente del terzo anno di fisioterapia e quindi sono un tirocinante quindi un operatore sanitario per questo motivo la mia università ha offerto la possibilità a tutti i tirocinanti insomma a tutti gli operatori sanitario ovviamente di vaccinarsi io ho pensato che questa potesse essere un'occasione più unica che rara quindi insomma ho colto la valla al balzo e ho deciso di di vaccinarmi ovviamente per noi operatori sanitari è molto importante perché stando a contatto con pazienti che spesso magari sono anziani presentano delle comorbidità è molto importante e è molto importante essere tutelati da questo punto di vista diciamo e poi ovviamente anche per stare più tranquilli nel contesto anche familiare perché spesso magari una visita dalla nonna dalla zia per stare insomma in tranquillità per stare più tranquilli che emozione hai provato nel fare il vaccino? Devo dire che l'emozione è stata forte perché comunque è stato un periodo per tutti e lo è tuttora purtroppo molto duro si vedono si vedono un sacco di persone che purtroppo stanno stanno soffrendo e avere la possibilità di vaccinarsi e quindi vedere uno spiraglio di di luce in questa tremenda pandemia è vero è stato veramente bello un'emozione un'emozione veramente importante. Senti un'altra cosa che ti voglio chiedere è stato facile? È stato ben organizzato dal punto di vista procedurale? Devo dire che sì la mia università è stata veramente impeccabile da questo punto di vista hanno organizzato delle delle fasce orarie per fare in modo che non non si creassero assembramenti quindi da questo punto di vista sono stati veramente veramente bravi non c'è stata tanta attesa e devo dire un una buonissima organizzazione. Molto bene. Senti hai avuto degli effetti collaterali? No non ho avuto particolari effetti collaterali il classico dolore da da puntura nella zona nella zona di iniezione però niente di più insomma devo dire è stato molto tranquillo. Un'ultima domanda eh quando farai il richiamo? Il richiamo lo farò esattamente il ventotto di gennaio quindi con ventuno giorni di di distanza dal giorno in cui tu hai fatto il vaccino. Esattamente. Un'ultima domanda un'ultima domanda consiglieresti il vaccino? Ovviamente sì lo consiglio a tutti ovviamente mi auguro che riescano ad organizzare bene eh tutto tutto a tutte le sistemazioni insomma per riuscire a vaccinare prima di tutto gli ultra ottantenni e poi iniziare anche a vaccinare il resto della popolazione speriamo si riescano a coordinare nel migliore dei modi per riuscire a piano piano a vaccinare tutti quanti e riusciremo insomma a tornare a una una vita normale. Una vita normale. Una vita normale. Benissimo. Giacomo io ti ringrazio a nome di Men's Life e di tutto il nostro pubblico per questa tua testimonianza diretta e spero di vederti presto sui nostri schermi. A presto. Molto volentieri grazie a presto. Ciao a tutti. Ciao ciao.